buongiorno a tutti i telespettatori di classe mbc e benvenuti all'interno di analisi tecnica come sempre io vi ricordo che questo spazio è dedicato a voi perciò se volete chiamarci inviarci i vostri sms whatsapp e telegram potete utilizzare il 349 8275983 che come sempre è a vostra disposizione per il resto signori lasciatemi salutare il nostro gradito ospite di quest'oggi eccezionalmente giovanni lapidari il nostro antonio landolfi l'abbiamo avuto mercoledì si sono cambiati di giornata ma nulla cambia a livello di format siamo sempre qui a rispondere alle vostre domande meno 1 12 per cento per il nostro derivato 21.675 punti e alla fine noi avevamo valutato l'ipotesi che l'area dei 22.000 punti fosse un tantinello difficile da superare così in prima battuta avevamo ipotizzato un ritorno a ridosso dei 21.100 e 21.000 qualche cosa 21.150 siamo a 21.670 la direzione sembra quella però chiedo a giovanni lapidari cosa ne pensa buongiorno innanzitutto giovanni buongiorno ben trovati a tutti penso esattamente quello che hai lasciato intuire nelle ultime parole della tua introduzione credo che bisogna andare a fare oggi nuovi minimi l'ho scritto mezz'ora fa in chat quando c'era stato un ribalzo interessante anche nel dax e ho pensato che personalmente in ottica intraday per oggi sarei stato compratore soltanto con un test dei minimi recenti perché comunque la rottura di bassista è stata abbastanza conclamata venivamo da tre giorni di approfondimento due giorni di approfondimento di bassista non mi stupisce io chiaramente te lo dico non col sono del poi guardo dei sistemi tecnici che mi dicono delle cose e statisticamente so che sette volte otto volte su dieci ci azzeccano per cui mi tento affidare mi del lavoro che ho costruito con una certa meticolosità per cui non mi aspettavo questo va detto una recrudescenza di questo ribasso così violenta stamattina ma l'andamento della notte mi ha fatto pensare che o ci sarebbe stata la possibilità ma soprattutto il desiderio da parte dei mercati di andare sopra determinati livelli tecnici per il dax 13.300 13.320 per il nostro mercato bisognava ritornare di nuovo sotto questo 22.000 che tu ben hai detto si è dimostrata una resistenza ostica ma considerato che noi eravamo andati anche a 22.250 proprio con l'apertura dell'indice alle 9 di mattina di mercoledì scorso che era stato un pattern di prezzo molto ingannevole i mercati hanno ingannato tante persone perché quell'accelerazione ha fatto pensare che ci sarebbe stata buona probabilità di andare a concludere o avviarsi verso una conclusione del mese molto positiva a limare i vecchi massimi e forse anche qualche cosa di più ma veniva da una notizia che era quella della Merkel che era riuscita grazie al suo fortissimo potere di condizionamento a isolare Polonia e Ungheria con cui poi il giorno dopo ha fatto la pace ma il mercato in realtà ha intrappolato molti operatori di piccolo calibro su quel massimo e poi si è messo prudente favorito anche nel pomeriggio di mercoledì da una discesa un po' robusta del Nasdaq favorito in senso negativo per attendere ciò che BCE ieri aveva da dire BCE come al solito si è ormai trasformato in un non evento dopo il whatever we take di Draghi le riunioni delle banche centrali sono molto carine da guardare per il linguaggio del corpo dei governatori non certo per quello che dicono perché tutto quello che potevano aver fatto l'avevano fatto e giustamente la Lagarde ha introdotto anche degli elementi di preoccupazione che a chiunque non c'era bisogno di ascoltarli nella loro conferenza per cui gli acquisti si sono andati a rarefare e oggi sono saltati alcuni stop un po' di troppo per via probabilmente del discorso Brexit. Credo che si debba scendere ancora, credo che sarà una discesa abbastanza controllata e individuerei in area 21.575 per il nostro indice, zona 3.470, 65 per Eurostox per rimanere all'Europa e in area direi sul DAX 13.080 per oggi che non sono lontani quindi direi anche abbastanza raggiungibili, dei livelli di attenzione su cui osservare. Come potrebbe chiudersi la giornata la settimana? Su SP500 è stato rotto un 3.680 che mi ero appuntato proprio già all'inizio di questa settimana un'eventuale discesa di approfondimento dei listini americani nel pomeriggio tra 3.626 e 3.615 dovrebbe trovare, per oggi però è basta, una sua stabilità. Sarebbe molto grave che questi livelli dell'SP venissero rotti e confermati in chiusura settimanale perché questo introdurrebbe una settimana prossima un po' agitata. Grandi eventi macro non ce ne sono, c'è la Fed, ma soprattutto ci sono però le sistemazioni di un mese già di per sé stesso molto vischiosi e difficili come dicembre dovute alla scadenza dei derivati, sui quali suggerisco di alzare il piede dell'acceleratore per molti operatori perché il mercato sarà probabilmente non facilissimo da leggere. Perfetto, archiviato il punto di giornata dell'analista, andrei come sempre ricordarvi il 349-8275-983 per le vostre domande e andiamo a lavorare un po'. Vorrei conoscere l'analisi del titolo STM e FCA. Grazie mille e buona giornata. Allora, da quale titolo vuoi cominciare? Da STM, giornate difficili, vi sono state, il profit warning si è fatto sentire, credo che sarà improbabile che nel breve il titolo possa tornare in area 31-30,5 dove c'erano anche dei vecchi massimi poi rotti a rialzo in maniera molto forte, suggerisco ancora di più, di quanto non ho già detto nelle precedenti puntate, soprattutto nel caso di STM eclatante, di osservare attentamente l'andamento e i prezzi, la posizione dei prezzi di molti titoli riguardo a ciò che era stato costruito nella giornata del 9 di novembre, la giornata Pfizer. STM sotto i massimi Pfizer, che sono appunto quelli di 30,6 circa, credo che siamo intorno ai 29, possa trovare un decoroso supporto, sarebbe molto grave, lo perdesse in area 28,30 dove passa una trendline di tipo giornaliero che io mi sono tracciato già dalle nostre precedenti analisi e che è molto importante perché è ottenuta collegando i minimi Covid del 19 di marzo con quelli poi del 7,9 settembre. Trendline che, proseguendo, coglie perfettamente anche quelli del 29 di ottobre e che deve fare per forza da supporto dinamico. La violenza con cui viene aggredita mi fa però essere prudente. In casi differenti, direi, dopo una candela così orribile come quella che è stata di mercoledì scorso, ma dai, forse un ipervenduto del genere lo si può comprare, però quella è una candela che comunque ha perso il 12%, quasi, è tanta roba. E io temo che il titolo possa aver bisogno di scendere ancora e di andare su quel 28, 27,50 a fare un test. Sì, riuscirebbe a vedere un po' di luce, un po' di sereno solo con un superamento di 31, 30,20, 31,5, ma ritengo che sarebbe un massimo da vendere nel breve termine e non da acquistare di nuovo sulla forza. Questa è la mia opinione. Su Fiat stiamo tutti aspettando annunci per quanto riguarda Peugeot. Fiat è stato il più grosso positivo errore di sottovalutazione che ho commesso in questo 2020, in cui credo di aver fatto delle buone analisi, ma su Fiat mi aspettavo dei ribassi che invece non sono arrivati, non hanno toccato i livelli al di sotto dei quali questi ribassi avrebbero potuto incrementarsi e il titolo oggi ce lo troviamo a 13. 13 mi sembra tanto, 13,7. Siamo al di sopra di un canale rialzista già molto ben inclinato. Il titolo credo che abbia dato molto, ma io penso che da 12,8 anche chi lo stava comprando con più intensità abbia smesso di farlo. La situazione è positivissima, ma proprio veramente ad averli grafici belli così e soprattutto così ben impostati. Però, al mio modo di vedere, primo scricchiolio. Oggi, in caso di una chiusura sotto 13,4, in termini di performance relativa, il titolo ha fatto il 12%, anche considerato gli ultimi 20 giorni, quindi è supportatissimo sotto numerosi punti di vista, non c'è assolutamente a dire nulla. Soltanto se mi andasse sotto 12,20 si potrebbe dire che è cambiato tutto. Peraltro, 12,20 sarebbe anche una bella area di supporto e la mantengo come tale. Chi ce la lo tenga, però penso che sarebbe opportuno cominciare a incassare forse anche qualcosa, forse stringere qualche trailing stop, perché siamo arrivati, nelle ultime sedute, a superare addirittura i massimi dei primi di novembre dello scorso anno, altro che i massimi Covid. E quindi credo che probabilmente qualche presa di beneficio possa essere tranquillamente nel novro delle probabilità. Buongiorno BPM, entrare ora? In base a quale ragionamento non lo sappiamo, anche no. Così? Assolutamente no. No, no Emerick, non entrerei adesso in questa fase. Non perché il titolo sia impostato male. Un bel livello a 1,72, 73 mi pare di vedere. Tu che dici? Sì, sì, è il minimo del 12 novembre. Però comunque questo livello è carino da vederlo come livello tecnico. Però noi stiamo parlando di un titolo che ha comunque effettuato, grazie agli acquisti di BCE sui nostri titoli di Stato, che coinvolgono in positivo i titoli del settore bancario, grazie anche alle manovre alle voci, di fusione, eccetera, eccetera, già fatto tanto. Ti dico una cosa, prendi i minimi del 22 di maggio di quest'anno, collegali a quelli del 24 di settembre sempre di quest'anno, ottieni una trendline, duplicala e attaccala sui massimi del 21 di luglio. Vedrai che l'inclinazione di questa trendline ti coglie quasi perfettamente tutti i massimi del 6, 7, 8 ottobre, sforacchia la rottura rialzista del 9 di novembre testata su questa trendline su cui ci stiamo appoggiando adesso. La situazione del titolo secondo me sta imbruttendosi, non in modo clamoroso va detto, sta perdendo spinta, gli acquisti stanno diminuendo, l'ultima salita di BPM dal 30 ottobre, quindi tutto il mese di novembre, è fatta di ricopertura da parte dei piccoli operatori, lo si vede dal calo dei volumi e della pressione. Al mio modo di vedere BPM è un sell a partire da 1,9 e soltanto una chiusura settimanale, ma non credo che oggi avverrà, sopra questo livello, ma diciamo anche la settimana prossima mettiamo, mi potrebbe far cambiare idea. Quindi a 1,9 secondo me sono partiti degli short e a mio modo di vedere quel livello che tu hai detto e hai individuato con la tua bella esperienza interessante, un altro livello interessante che mi piace anche di più, 1,66 circa, perché lì potrebbe esserci di nuovo da volere entrare. Chiaramente comprare anche sui ritrecciamenti questi titoli fa presupporre che sul settore bancario italiano si aprano degli spiragli positivi, c'è molto merger acquisition, molte voci in questo momento e fa supporre anche un gennaio bello. Ecco io sinceramente a dicembre, le visioni su gennaio non ne avrei, non ne ho, perché è sempre un mese un po' strano. Attenzione però che noi veniamo da un 2020, difficilissimo, ma che si conclude o sembra, poi domani può cambiare tutto, aver voglia di concludersi in una maniera decisamente più ammantata di ottimismo rispetto a quello che abbiamo visto nella sua prima parte. Come sarà il 2021? Come sarà la situazione del nostro paese? BCE continuerà a sostenerci? La firma del MES, del Recovery Fund, è una cosa fatta bene, una trappola? Questi 209 miliardi che ci danno, come li vogliamo spendere? Perché quando vedo 9 miliardi per la sanità e 17 miliardi per la parità di genere, penso che ancora non ci siamo. E allora la domanda che mi pongo è, le banche come potranno supportare la nostra economia? Che riflessi avranno? Si stanno modernizzando? Cosa succede? Un settore critico, importantissimo per il nostro paese. Porrei più attenzione del solito, su questo comparto specialmente. Perfetto, buongiorno signori, sono Daniele da Clusone, leciti da aspettarsi che prima o poi in diesel San Paolo paghi integralmente il dividendo 2019, quello relativo al 2020, anche eventualmente in più rarte. Grazie e buona giornata. Beh, non è la prima volta che affrontiamo il tema, Messina l'ha già dichiarato, se ci sarà il via libera della BCE per il 2021, è probabile che venga anche pagato il dividendo 2020, che è quello relativo al 2019. Insomma, teoricamente se il via libera c'è, ci sarebbe anche la possibilità del doppio dividendo, però sempre se il via libera della BCE ci sarà, perché quello non è la decisione delle banche qui, qui è la decisione della BCE. Comunque in UK, in Gran Bretagna hanno già dato il via libera, il pagamento dei dividendi, però là c'hanno la loro banca centrale che ha dato il via libera, qua c'abbiamo la nostra, cioè la nostra, quella europea, della banca centrale europea. Comunque con un'analisi su Intesa San Paolo possiamo tranquillamente farla, caro Giovanni Lapidari. Prego, 1.93.52, oggi in calo dell'1.3. Idem come Banco BPM, idem, paro paro, tutti i titoli che si stanno piegando un po', creando una configurazione in gergo tecnico, si chiama rounding top, cioè di massimi arrotondati, non è bella, non è bella proprio per nulla. Su Intesa, ieri sono partite degli short che si erano già un po' anticipati nella giornata di mercoledì a 1,9820, questo è un livello di resistenza che ce lo guardiamo con estrema attenzione, non è che sono calati i volumi più di tanto, ma è calata la pressione in acquisto. Tutta la salita che il titolo ha fatto dal 10 di novembre in poi sono tutte ricoperture, tutte operazioni di sistemazione di short aperte incautamente e naufragati con la candela Pfizer del 9 di novembre. Credo che potremmo guardare anche altri 10 titoli del settore bancario nostro, soprattutto quelli più importanti, i grafici sarebbero tutti simili, per la mia opinione intesa un bellissimo supporto in area 1,8 circa, 82 piuttosto che 78. Lì eventualmente chi fosse ribassista sul titolo potrebbe, a mio parere, cominciare a portare a casa qualcosa, nel caso ci vada, va detto, chi volesse acquistare potrebbe attendere di ritornare esattamente in quei paraggi che sono i paraggi poi del 10 di novembre. Allora possiamo ragionare, chiaramente se ci arriva, bisogna vedere come, perché se ci arriva a piombo non si compra una discesa a piombo, un coltello che cade, se ci arriva si ferma un attimo, forse si perde qualche giorno, se il titolo piace può essere interessante da riprendere. Ma adesso sinceramente io dalle banche ho visto BPM, ho visto intesa, mi basta, mi mancherebbe rivedere un decreto, altrimenti dirò che bisogna uscire, questa è la mia opinione, ore 11.29 dell'11.12 2020, poi magari domani vediamo. Vorrei un'analisi di Ifis e Saras Gianni da Bologna, allora andiamo a lavorare su Banca Ifis. Allora, volevo partire da Saras ma va bene lo stesso perché ce l'avevo in... No, no, tranquillo, 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 l'ho trovato. Ifis anche lei sta ritracciando un po' più violentemente, interessante il supporto di 9 e poi di 8,7, 9 è il minimo del 27 novembre, 8,7 la media mobile a 200 giorni. Direi che 9 è assolutamente un supporto da seguire perché è anche una zona di importanti volumi che il titolo aveva sviluppato ad agosto e tutto agosto, tutto settembre, sempre di quest'anno. Poi ci fu una discesa, un bellissimo recupero, veramente molto bello. Saras è passata il 30 di ottobre, stava a 6,6, è andata a fare praticamente quasi 10. Recuperò del 50% di quella quotazione. Però il mercato si è dimostrato tiepido, quantunque a mio parere nel brevissimo il supporto fondamentale è il minimo prezzo di apertura del primo di dicembre, quindi 9,15. Questo 9,15 è stato limato ieri, che ieri ha fatto 9,16, 17. Questo è il livello che deve tenere, altrimenti 9,15, 10 sono 0,85 punti, meno 9,15 si va a 8,3 e allora un livellone è 8,3 che è anche una zona poi dei minimi del 29 di giugno di quest'anno. Fossi rialzista, incasserei. Bisognava farlo un po' prima, anche martedì 8, perché è partito uno short comunque dei livelli di abbandono da 9,75. Però col signor del poi, Lapidari è bravissimo, tanto sta a casa. Questa è la mia opinione. Saras, petrolio, petrolio molto brillante, anche oggi mi sembra, 47 qualcosa credo di averlo visto. Però Saras, che non è un titolo che è mai stato brillantissimo, è un titolo che ha avuto sempre sovra performance nel suo settore, anzi ha rimbalzato come tutti, 9 novembre, Candela Pfizer, peraltro la Candela Pfizer l'ha presa sui minimi anziché su già un bel rimbalzo che molti titoli avevano fatto a partire dai primi, l'1, 2, 3 novembre. C'è una shooting star fatta mercoledì che non mi piace, la media mobile a 200 ancora sopra, a 0,65,70, un supporto a 0,55,90, volumi importanti a 0,51,15, titolo che è stato un po' venduto ieri da 0,59,45, pressione rialzista che non è mai stata molto brillante, che si è andata poi a esaurire con la giornata del 18 novembre, che è un minimo a 0,54 e un massimo intorno ai minimi di oggi, l'apertura di oggi 0,57. Starei abbastanza attento perché la deriva, scusami, la deriva di bassista, cui accennavo per molti titoli, non c'è così visibile, ma non c'è neanche così visibile la bella salita che molti titoli hanno fatto e che merita un approfondimento, per cui starei abbastanza attento. Petrolio per adesso mi sembra interessante come prezzo, una commodities che grazie alla debolezza del dollaro non ha avuto flessioni di alcun genere, però direi di monitorare la situazione perché grandi occasioni di acquisto, cari amici, io non ne vedo manco una e vi spiego perché, perché l'ha detto molto bene Pietro Di Lorenzo, nell'intervento che hai ospitato prima di me, quando ha detto che era logico aspettarsi delle prese di profitto a dicembre, dopo un novembre assurdo, un novembre assurdo, irreale, totalmente irreale. La finanza è vero che si muove su spazi, temi e paradigmi completamente avulsi dall'economia reale, ma novembre ha fatto registrare performance incredibili, in un momento che è di incredibile, beh, lascia stare, è quello che è, è quello che è. Di conseguenza siate prudenti, siamo ancora un po' sui massimi, non abbiate fretta di rientrare perché la situazione è bruttina, bruttina. Va bene, allora, caro Giovanni Lapidari, rimani in collegamento con noi perché devo dare in pausa un paio di minuti e poi torniamo subito a rispondere ai nostri telespettatori. Pausa. Bentornati 3498275983. Buongiorno, vorrei operare su un titolo del Lime, Matica Fintech, dopo il boost dei pagamenti digitali potrebbe beneficiarne. Allora, Matica Fintech sul Lime, fanno le tesserine, quelle carte di credito, oppure ad esempio le carte di identità, adesso che ci sono le tesserine, loro fanno quello. Però sui pagamenti digitali non so se torna troppo con il business, perché oramai sui pagamenti digitali l'evoluzione è andare lì e pagare senza carte di credito, appoggiando il telefonino, l'orologio. Quindi non lo so se in futuro potrebbe essere. Comunque, Matica Fintech, caro Giovanni Lapidari, andiamo subito a vedere. Prego. Eh, grafico da AIM, dove le candele... Tra l'altro oggi non ho neanche ancora scambiato, sbaglio, perché non vedo nella mia cosa. Eh no, infatti. Non ce l'ho. Boh, che ti devo dire, questo è il classico titolo che se ti piace lo storytelling che c'è dietro, lo compri. Se lo devi guardare attraverso strumenti di analisi come quelli che utilizziamo noi, a mio parere conti fino a 10 e non ne fai di nulla. Configurazione grafica discendente dopo il buon rimbalzo da marzo, assolutamente assente qualunque forma di direzionalità e di conseguenza di indicazione ricavabile dai grafici. Possiamo vedere che la media mobile a 200 periodi, c'è la sopra il massimo del 7 di dicembre a 1,40. Poi sono passate due sedute, quelle del giorno 8 e quelle del giorno 9, dove sono stati scambiati 4.500 contratti e neanche uno, il 9. Non so ragazzi, se vi piace sta roba accattatevela direbbero a Napoli, però sinceramente non sono in grado. È un titolo del Lime, insomma. È un titolo del Lime. C'è poco da fare, è del Lime e c'è i volumi del Lime. Buongiorno, sono Anna Maria da Firenze, mi potete fare un'analisi tecnica sul titolo OVS? Certo. OVS, avrà qualche volume in più. Lo sento Anna Maria, mi viene sempre in mente la signora di Maranello, rimasta nel cuore di tutti noi. Allora, è bellissima quella puntata, supporto 089-087, una bella trendline, mi sta passando su quei livelli ricavata dai minimi del 16 marzo congiunto a quello del 25 maggio. Si sono sforacchiati, un po' sbruciacchiati quelli di fine ottobre e primi di novembre, il titolo ha recuperato. Adesso sta scendendo con oggi, ancora giornata si deve chiudere, siamo a meno 1,8%, però saremo alla sesta giornata consecutiva di calo. I big hanno abbandonato a 1,0840 questo titolo, hanno chiuso le posizioni, hanno smesso di comprare e quindi la giornata del 4 di dicembre, che aveva aperto con un'apertura, non in gap, ma comunque con un bell'up, si è poi girata al contrario e quando i titoli si girano al contrario, chiudono una settimana così, partono poi i basket di ordini basati sui time frame settimanali e allora ci ha occorre. Io aspetterei a comprare questo titolo anche al di sotto di 0 di 1 e andrei a cercare un 0,95, un 0,90 sinceramente, lì mi potrebbe piacere di più un'eventuale operazione in acquisto. Va detto anche che OVS, se non erro, si occupa di distribuzione, no? Vestiti, OVS. Vestiti, OVS, centri commerciali, aperti, chiusi, non aperti, non chiusi, limitati, mascherine, eccetera, eccetera, e non puoi non risentire del clima che c'è in giro. Crisanti ha detto preparatevi a una terza ondata, sarà quella che ci ammazza tutti. Vabbè, di volta che parla Crisanti, però ci dobbiamo toccare. No, ma ci dobbiamo sempre. No, invece quando parla la capua bisogna essere felici. Diciamo che non sono con il massimo. Hanno trovato un giochino remunerativo con la gente lì che mi ha fatto pensare che non era vita o sbagliato lavoro. Detto questo, siccome le previsioni sono che bisogna continuare a dire che c'è tanta paura in giro e che dovete stare tutti in casa, chiusi, e purtroppo OVS un po' ne risente. Anzi, è già stata brava a mantenere le posizioni. Indice che comunque in società due conti li sanno fare. Direi però, per il momento, di aspettare tempi meno inclinati negativamente di questi. Questa è la mia impressione. Perfetto, andiamo avanti. Buongiorno, Emerico. Un parere su Saipem. In carico a 2,18 e Tenaris a 6,93. Grazie mille, Francesco. Allora, andiamo su Saipem. Ok, ce l'ha in carico più o meno ai prezzi attuali, comprata un po' caruccia, perché Saipem c'è qualcuno dei nostri ascoltatori, nelle precedenti trasmissioni ce l'ha segnalata a ben altri prezzi. Saipem ha un supporto a 2 secco, che è anche la media mobile a 200 periodi, che gli sta sotto e che è stata incrociata proprio tra il 24 novembre e il 3 di dicembre. E poi c'è un supportone molto interessante a 1,95, seguito da un 1,83. Le resistenze, direi almeno nel breve, sono i massimi recenti, su cui ha fatto un po' di fatica. Poi ci sarebbero quelli ancora più importanti, di area 2,5, massimi di aprile e poi il massimone dell'8 di giugno a 2,7. Li vedo un po' irraggiungibili. La pressione in acquisto ha cominciato a declinare dopo aver toccato dei massimi interessanti, dopo che il titolo ha fatto quota 2. Segnalo quindi che da 2 a 2 e qualche cosa che è stato fatto adesso, 2,25, sono tutti acquisti di pochi volumi, di poco calibro. Teniamone buon conto. Dire che il titolo debba essere venduto? Francamente no, perché mi sembra comunque che sul ritracciamento ultimo un segnale di volontà di continuare a salire l'abbia avuto, però attenzione che non mi vada sotto 2,05, cosa che non sarebbe, non credo oggi, impossibile, per cui calma. È chiaro che il collega ci chiede un po' di informazioni sui titoli legati al petrolio. Tenaris ha un grafico ancora molto bello, decisamente più bello di quello di Saipem. Io manterrei la posizione su Tenaris, anche se non è stata eseguita ad un prezzo formidabile, ma nessuno è perfetto. Devo segnalare una resistenza che in questo momento passa in area 7,12, teniamone buon conto. E sarebbe una resistenza non da poco, sai, perché praticamente qualora venisse raggiunta 7,18, 7,24, si andrebbe a chiudere finalmente il gap che c'è ancora da venerdì 6 marzo a lunedì 9 marzo. Ancora questa ferita è aperta e sarebbe anche il caso di mettersi a tavolino e chiuderla. Supporti sono ben più in basso, c'è 5,7, c'è 6,14 zone di volumi. Attenzione, c'è un po' di vischiosità adesso rappresentata non solo dall'incontro con la resistenza, ma anche perché siamo in un'area di volumi. Sono volumi non secondari, sia pure limitati, sviluppati fra il 4 e il 9 di giugno, dove qualcuno è rimasto intrappolato su quei massimi e sta probabilmente procedendo a chiudere delle posizioni dopo aver patito molto, perché il titolo è andato anche ben sotto 4. Quindi la struttura di questi due titoli è buonissima averne, però adesso sono un po' cari. Perfetto. Ci sei? Sì, sì. Buongiorno, sono Maurizio da Venezia, volevo chiedervi se il titolo Brembo secondo voi ha raggiunto i massimi o se c'è ancora margine di crescita. Grazie e buongiorno. Andiamo a vedere Brembo, che forse è una settimana che non andiamo a vederlo. Allora, in questo momento 0,66% di ribasso. Prego, prego, scusami. No, no, scusate, figurati. Nel breve Brembo è arrivato, perché è di nuovo a combattere in area 11 e qualche cosa con un doppio massimo che ha zona del 25 aprile dello scorso anno, zona di dicembre dello scorso anno. Quell'area lì, quell'11 e mezzo, arrotondiamo, lo sente? Adesso è su un supporto delicato, importante, direi quasi decisivo, che è area 10,5. Ci sono anche rilevanti volumi e poi c'è una zona dalla quale a gennaio Brembo si è poi staccata, ha provato a starci, a combattere, a fortificare, a costruire delle difese, ma poi Covid gli era fatta abbandonare. Secondo me nel breve Brembo, e per breve intendo anche qualche settimana forse è un po' arrivata. Titolo che a questi prezzi non giustifica acquisti sulla forza neanche su una debolezza relativa e che io credo dovrebbe, per chi intende seguire le sorti di questa azienda, che a me come azienda piace non molto, moltissimo, attendere area a 9,5 e forse anche 9,20 prima di rientrare. Il titolo mi piace, lo ritengo riservato a un'operatività molto lunga nel tempo, il settore automotive lo vede leader, ma di sicuro i margini in questo settore non sono semplici e pertanto nel breve secondo me è un titolo da vendere più che da acquistare su questa forza. Sottolineo che in area 10,8270 sono partiti degli ordini short. Buongiorno, volevo sapere se è possibile avere la differenza tra il SEDEX e il TLX, se per l'investitore cambia sostanzialmente qualcosa, anche per un'eventuale liquidità del certificato, beh in realtà questo qua è legato ai certificati, magari me lo tengo e rispondiamo venerdì prossimo, potrei avere un'analisi su Leonardo e Biper? Allora andiamo a lavorare prima su Leonardo? Certo, certo. Leonardo è un titolo molto chiacchierato anche per vicende non legate alla gestione caratteristica della società, si è parlato in questi giorni del furto di dati riservati anche da parte di persone che lavoravano a Leonardo stesse e stupisce che un'azienda così importante abbia subito un'aggressione e trovato un buco nelle sue difese. Qui siamo in una zona di volumi, questa di 5,9 che sarebbe il caso che tenga, perché sotto circa 5,7 che è sia all'area del minimo del 30 di novembre, quello è 5,78-60 che per quanto riguarda la media mobile a 200 periodi è 5,77 si aprirebbero dei buchi perché non ci sarebbero più volumi in grado di frenare una eventuale discesa. Il rimbalzo del titolo è stato bello, uno dei tanti titoli che hanno rimbalzato bene, però se non tiene questo livello abbiamo 5,627 e poi un'importante zona che è 5,30, 31, 32. Lì eventualmente nel caso che le discese si approfondissero oggi Leonardo, credo Emerick se non ho i dati sbagliati siamo ben oltre il meno 3%. Meno 3,57 al 5,93. Esatto, esatto e quindi attenzione che potrebbe chiudersi male la settimana e guardando anche un grafico settimanale di Leonardo la candela è ingolfata in quella precedente ma è proprio di totale inversione e anche di pressione ribassista non da poco, non da poco. Credo che andare sotto 5,8 mi esporrebbe la probabilità di avere un gap ribassista lunedì. Starei quindi attento su Leonardo perché non vedo ancora la pace, la tranquillità in una società che ha attraversato tanti problemi non dovuti anche alla sua posizione comunque di preeminenza nel settore di cui si occupa. Mentre BPR che dici? Ah scusami pensavo l'avessimo l'abbiamo già fatto? L'avessimo già fatto. No, è di nonno. Mi confondo con Banco BPM. Grafico brutto, grafico brutto, una shadow, una shooting star fatta con il gap di mercoledì scorso seguita da un engine man e oggi seguita da una candela che, non voglio fare il technicality delle candele giapponesi, sembra voler diventare una marabozza da qui a fine seduta. Attenzione al minimo di ieri. Attenzione, sono partiti di short a 1,52 che assolutamente non va bene come prezzo. Se si guarda il trend, rendendo l'ultimo bellissimo, bellissimo rimbalzo, BPR è un titolo che può ancora continuare e che potrebbe dar luogo anche a un ritracciamento a meno che e sempre che non mi vada sotto 1,42 che oltre ad essere il minimo del 2 dicembre è anche la zona di passaggio della media mobile a 200 giorni. Chiaramente su BPR ci sono voci, rumors e sicuramente i grafici tengono anche un po' conto di questo. Non ha un grafico, brutto come quello decadente delle gloriose primary bank italiane, inteso in credito eccetera eccetera, però sinceramente comprarlo ora? No, ora non si compra niente, a meno di non metterci pochi soldi e far lavorare il tempo. Chi è stato acquirente di BPR, i bravi che sono entrati a 1,25, si facciano magari due conti perché comunque io qualche cosa la incasserei. Detto questo, assolutamente non bisogna andare sotto quel livello di supporto che ho detto, il 42 perché si abbandona una tutela anche di volume e prezzi, oltre che di collocazione sul grafico che a mio parere sta sorreggendo le view di quelli che ancora non vendono, per cui attenzione. Le resistenze sono sui massimi precedenti di 1,57 circa, poi ci sono da affrontare ostacoli non da poco che sono tutti massimi di giugno e di luglio di quest'anno, sempre molto venduti, sempre molto ritracciati, a riprova che comunque il rimbalzo del titolo ultimamente è stato bello, ma se guardi un grafico Covid le nostre banche sono tutte indietro, tutte indietro, tutto indietro. Questo vuol dire che comunque il settore patisce quella che è oggettivamente una situazione economica nel nostro paese sotto gli occhi di tutti. Andiamo avanti, buongiorno, il Creval è da tenere o siamo costretti a fare l'OPA? Grazie Antonio da Milano. Beh, no, costretti, non siete costretti a fare niente, bisogna capire un attimino cosa poi vogliono fare del titolo. C'è da dire che oramai il mercato, se non ricordo male, era 10,5 il prezzo di OPA, ma il titolo Creval viaggia dall'inizio, ben sopra, perché il mercato si attende un rilancio. Effettivamente così, vedi, siamo a 11,52, siamo ben un euro sopra il prezzo di offerta. Che dire, non lo so, o si punta a un rilancio, si tiene e se arriva il rilancio si vende, o bisogna anche vedere se uno ce l'aveva già da prima, a che prezzo ce l'aveva, perché poi alla fine il Creval, come tutte le OPA che si stanno sviluppando in questo momento, mi viene da pensare a quella di CFT, Guala stessa, cioè si ritorna ai prezzi del 2018. I titoli però stavano ben sopra magari nel 2017. Considerate che il Creval, ad esempio, vabbè, erano altri tempi, sono successe tante cose, però il titolo girava sui 50 euro solo a settembre 2017, e perciò considerate voi che un prezzo OPA 10,5 rispetto a un 50 euro era un altro mondo, questo sì. Vabbè, senti, bando alle ciance, che vale, che dici? Che se va fra 12,38 e 13,15 io me lo venderei. La posizione è molto forte, appunto, cioè OPA OPA, però il titolo ha continuato a salire. Ha dei supporti, se si guarda un discorso grafico, importantissimi sui massimi che erano stati fatti a febbraio, discesone, poi grande recupero, titolo che quindi ha recuperato bene anche prima del discorso OPA, perché ha fatto un rimbalzo lusingherissimo, quindi se uno guarda il grafico questo è un titolo da tenerselo. Poi procedere ad aumento di capitale o meno, quello è un altro tipo di discorso. Personalmente sai, aumenti di capitale sulle banche, non lo so, ho dei punti interrogativi personali, ma prendeteli con il triplo del beneficio di inventare normale, con cui analizzate ogni cosa che noi diciamo, perché sono opinioni del tutto personale. Graficamente bello e forte, spingessi ancora me lo darei via, ecco, ma questo chiaramente è più un discorso rivolto a chi già lo aveva in portafoglio, non a chi magari come il collega che ce l'ha chiesto deve decidere se aderire all'aumento di capitale piuttosto che no. Caro Giovanni Lapidari, devo andare ora in pausa per lasciare la linea alla redazione di Classi NBC per l'aggiornamento news, alcuni minuti e poi torniamo. Tu mi raccomando, rimani lì. Chi si muove? Pausa. Tornati a tutti i telespettatori di Classi NBC alla seconda parte di Analisi Tecnica, come sempre vi ricordo che se volete interagire il 3498275983 è sempre a vostra disposizione, siamo attualmente con un mercato che gira in negativo dell'1,37%, 21.620 punti in questo momento con volumi buoni, 7.225 contratti finora scambiati. Vi segnalo inoltre da monitorare il comparto bancario, il Fuzz Italia o Share Banks in questo momento scende dell'1,52%, abbiamo sempre come peggior titolo Leonardo in callo del 3,7%, seguito poi da Telecom Italia a meno 2,86%, Mediobanca a meno 2,42%, Moncler è il miglior titolo, comunque sta ritracciando veramente in maniera importante rispetto ai massimi di oggi, siamo attualmente con un rialzo dello 0,88%, abbiamo Pirelli rialzo dello 0,41%, Amplifon 0,34%, Diassoli in 0,18%, Atlantia 0,03% di rialzo e questi sono tutti i titoli con gli unici titoli, con il segno positivo sul nostro listino principale. Sempre in compagnia di Giovanni Lapidari a cui giro subito, buongiorno generali con un guadagno del 23%, sto valutando di prendere il profitto a questo livello di supporto, aspetto che rompa il ribasso oppure devo intervenire subito, grazie per la consulenza acquistato il 29,10, 2020. Allora, quando uno recupera un bel 20%, dovrebbe valutare di chiudere la posizione ed eventualmente, se proprio ci tiene, almeno fissa il fatto che i guadagni sono a casa, perché comunque sia ci sono sempre, fino a quando non chiudete la posizione, i guadagni e le perdite sono ipotetiche, reali ma ipotetiche, passatemi il termine. Comunque sia, vedo su generali, caro Giovanni Lapidari, un ritorno su già preso, i 14 euro, un bel supportone, è una partita interessante quella su generali, prego. Ma vendere ieri anziché oggi, assolutamente bisogna uscire, la candela di oggi è brutta, tutta piena, tutta aperta sui massimi, tutta sui minimi, ha rotto il minimo di ieri a 14,13, ha rotto anche il minimo nuovamente del 2 di dicembre, che era 14,23, ottimo acquisto, faccio i miei complimenti, ma assolutamente questa è un'operazione da chiudere. Se uno dice la chiudo in parte e la tengo, perfetto, 13,65, 13,4 sono due livelli di trailing stop, c'è margine, la bellezza dell'operazione offre molto margine, negoziazione, personalmente si potrebbe anche togliere almeno due terzi dell'operazione e lasciare uno stop a pari nel caso poi la flessione di oggi, che non mi piace e ti spiego perché. Mentre eravamo in trasmissione ho scritto ai colleghi che mi seguono che bisognava stare attenti e le vendite che sono arrivate adesso sono vendite che arrivano da Wall Street, cioè la recrudescenza di questo ribasso cominciano ad essere basket di ordini che arrivano dall'America. Aspettiamoci quindi un pomeriggio che vada, come ti dicevo prima all'inizio di trasmissione, a intaccare i minimi che sono stati fatti e potrebbe diventare un sell-off e di venerdì i sell-off non vanno contrastati perché di norma il venerdì quando è direzionale è la giornata più direzionale che ogni seduta della settimana può presentare, quindi occhio perché sui generali siamo molto vicini a rompere 14, quindi sinceramente la posizione che è bellissima, il titolo ha fatto un bel recupero, tutto molto bello fino a ieri. Adesso il quadro tecnico è cambiato e io un po' ne terrei conto, non conosco ovviamente le metodologie che usa il collega, la sua propensione a rischio, orizzonti temporali e quant'altro. Direi che però la zona di 13,7 sarebbe brutto, con una chiusura settimanale venisse colta e a mio parere la struttura del titolo suggerisce di incassare il meritatissimo premio di una operazione condotta con grande maestria. Buongiorno vorrei sapere per Amplifon, allora andiamo a lavorare subito su Amplifon, magari se ci mettete anche eventualmente i prezzi a cui siete entrati o se volete entrarci, in che ottica volete rimanere dentro, se di medio, breve o lungo periodo magari riusciamo a fare un'analisi più completa. Comunque in ogni caso Amplifon in questo momento guadagna lo 0,31, uno dei pochissimi positivi, non mi piace tanto la candela odierna perché comunque siamo andati a prendere dei massimi e soprattutto il disegno, guarda ve la faccio vedere, ma avremo modo di discuterne anche con le analisi di Giovanni, ma andiamo in onda la grafica, che vi faccio vedere, perché se dovesse rimanere così la candela di oggi, che è questa qua, guardate che serie di candele particolari, questa è indecisione a mio giudizio, occhio perché anche su Amplifon potrebbero esserci un po' di prese di profitto. Che dici Amplifon? Ok, hai perfettamente ragione, che peraltro le prese di profitto su Amplifon sono iniziate il 19 di novembre, quando ancora su tanti titoli si guardava soltanto le cose positive. Il titolo di cose positive ne ha molte, Emerick, perché è una struttura di recupero da marzo, davvero bella, ha avuto dei ritracciamenti ma sono organici. Adesso siamo molto vicini in area 31,7 ad una zona di supporto e sarebbe opportuno che il titolo comunque oggi riuscisse a dare delle reazioni, perché una chiusura sotto 31,7 e 31,8 andrebbe a essere inferiore alla zona dei massimi del 20 di ottobre, che è una sequenza di massimi e di minimi sempre coerente, massimi crescenti, minimi crescenti. Se andremo a interrompere, per quel poco che noi capiamo di analisi tecnica, questo sarebbe comunque uno stop alla struttura grafica, che a mio parere è costruttiva. Ha già avuto un discreto ritracciamento, perché il titolo è andato a 36,5 e è andato a 32, quindi contrariamente al 99% dei titoli, Amplifone si è mossa in controtendenza, ha sicuramente capitalizzato con delle prese di profitto logiche e opportune il bellissimo recupero, perché comunque da 14 e qualche cosa siamo andati a 36, quindi comunque il titolo ha recuperato molto, considerando che è un settore anche estremamente particolare, su cui il brand ha una posizione preminente, ma dove secondo me bisogna stare calmi. Intravedo anche una resistenza fortissima, dove dai 35-36 a cui il titolo è sceso, perché se tu prendi un grafico giornaliero andando un po' indietro nel tempo e prendi la zona dei massimi del 13 settembre 2018, quindi si va due anni e qualche cosa giù, li colleghi con i massimi del 19 febbraio e prolunghi questa trendline fino ad arrivare ai giorni nostri. Guarda dove Amplifone si è fermata sui massimi adesso. Eh sì, ha incrociato proprio questa trendline qua. Tac, 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 tac. Le analisi, ragazzi. Tac, non scappa. E voi ci prendete in giro, a noi che ci piace l'analisi tecnica, avete ragione, però ogni tanto fateci togliere qualche soddisfazione. Scherzi a parte, la robustezza del trend andrebbe soltanto a rovinarsi sotto 27, però stiamo parlando di un trend del recupero di tutto l'anno. Nel breve, il recupero che parte dal 2019 addirittura, nel breve e adesso siamo un po' in una posizione delicata. Non comprerei Amplifone a questi livelli se non, vista la vicinanza con supporti di breve, con pochi soldi. Perché comunque, guardando complessivamente come ha sviluppato quest'anno il titolo, la sua dinamica è ancora un po' caruccia. Un po' caruccia. Non è regalata. Bella azienda, metteci molto. Buongiorno a te e a Lapidari, sempre sul pezzo. Vi chiedo un'analisi di Trawell. Sono in acquisto a 23,10. Grazie mille Massimo dai Castelli Romani, che salutiamo. Un telespettatore affezionato Massimo. Trawell. Titolo Trawell Co, mi sembra, giusto? 23,5. Può essere 23,5 il prezzo, sì? Esattamente 23,5. Titolo AIM, o giù di lì. Se la mia piattaforma non è impazzita, oggi ha scambiato 40 contratti. Fammi vedere. Oggi ha fatto, volumi totale 40, sì. L'equivalente di prezzi, quanto ha fatto? No, 40 pezzi, sì. Neanche 40 pezzi. Chiedo un aiuto a te, Emery. 932 euro di controvalore, 40 trade, no, due trade e 40 pezzi scambiati. Scusami, hai ragione. Allora, ripetiamo, 932 euro finora scambiate dall'apertura delle contrattazioni. Sono stati fatti due trade per 40 azioni passate di mano, pari allo 0,00645 del flottante. Chiudo. Senti un po', hai informazioni su questa società che io non possiedo e che mi possano aiutare a trovare una quadra, visto che… Guarda, Trawell è stato uno dei titoli più massacrati per la questione sanitaria, perché comunque loro fanno parte del gruppo quello che impacchetta anche le valigie, che era ex safe bag. Adesso sta tentando un recupero, però secondo me potrà arrivare un vero e proprio recupero su questo titolo solo e soltanto ripartissero i viaggi in aereo, comunque sia il business. Per il resto è stato veramente parecchio colpito come business. E basta, questo ti posso dire. Però devo dire che è stabile, è molto stabile ultimamente. Nell'ultimo mese è sui 23, non si muove da lì. Però, boh, siamo lì. Trawell and core è stato veramente molto massacrato dal mercato. Che dire? Andiamo avanti? Più che altro no, però cerchiamo di capire le domande. Magari alcuni colleghi dicono compriamo adesso, che non li vuole nessuno, questi titoli che potrebbero beneficiare se un domani un certo ciclo economico riparte. Questa può essere l'unica valutazione che, secondo me, un senso ce l'ha. Però, signori, con 1000 euro vi comprate i volumi di oggi. Attenzione, insomma, vabbè, è quello che è, insomma, ecco. E' così. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, vi seguo sempre con molto interesse. Vabbè, una vostra analisi, se possibile, sui seguenti titoli. Autogrill, Leonardo, IMAX o LMAX? Che non riesco a capire bene, deve essere un IMAX. E American Airlines. Allora, Leonardo l'abbiamo ampiamente fatto. Andiamo su Autogrill, IMAX, LMAX? Mi giunge nuovo, sarà in America, presumo. Adesso vado a cercare. LMAX non è il circuito su cui si scala. Per quello che ti dico, perché mi frega che, non so se mi ha scritto la I maiuscola o se è una L minuscola. Adesso vado a cercare. Comunque, il MAX è sicuramente il circuito legato al Forex, uno dei pochi che, tra l'altro, ha il book per le quotazioni, assieme a quello del CME. Poi tutto il resto del Forex, lo sapete, che è over the counter e perciò non hanno book, solitamente, specie quelli che fanno i CFD. Comunque sì, adesso io vado a indagare. Tu fammi Autogrill. Allora, c'è un doppio massimo, quasi swing di fallimento, non bellissimo da vedere, con evidente perdita di spinta e qualche ordine short che è partita a 5,67 due giorni fa. Struttura ancora costruttiva, combattuta, perché comunque dopo il massimone fatto il 24 novembre, il ritracciamento ci hanno riprovato. Va detto anche che le pressioni in acquisto sono andate a diminuire a partire dal giorno 16 novembre, che più o meno aveva concluso, aveva fatto dei massimi intorno ai prezzi dove siamo adesso. Si è fatta sentire la resistenza del 9 giugno, si è fatto sentire, a mio parere, i nuovi provvedimenti che limitano un po' la circolazione delle persone, di conseguenza Autogrill non può non risentirne, poi ci sono altri tipi di ragionamenti da fare. Io ho tirato giù delle trendline che non sto a descriverti perché è un po' lungo il processo, il massimo molto importante del 24-25 novembre in area 5,9 si farà sentire, con una resistenza veramente ostica, molto pesante e quindi assumiamola come resistenza decisiva. Un altro livello di supporto sono i minimi del 26-28 novembre, che poi corrispondono anche ai massimi del 9 di aprile e quindi quelli in mercato in area 5, che è un prezzo tondo, li guarda 4,65, 4,7, 4,75. Sono altri livelli nel breve di supporto, la media mobile a 200 periodi passa sotto, non è ancora inclinata positivamente, si sta addomesticando e sta a 4,5. Direi attendere prego, attendere prego, attendere prego. Un operatore le risponderà prima possibile, come quando si chiama i centrali delle aziende. Direi di aspettare, direi di aspettare. LMAX non abbiamo capito, invece American Airlines... IMAX, mi ha risposto, mi ha scritto, è una I maiuscola, IMAX. Allora, io è in America perché è tipo la casa... IMAX Corporation, eccola qua. Questo è più bellino come grafico, ha dei ganci, dei ritracciamenti. Sì, è caruccio, vero? Nulla di eccezionale, si potrebbe dire che combatte con i massimi dei primi di settembre. Nulla di eccezionale perché c'è una brutta shooting star del 24 novembre. Però ieri, giornata ben diversa da oggi, attenzione ragazzi, si è comportata bene. Ha strappato bene negli ultimi tre giorni, non ha ancora voglia di scendere. Direi che questo è un titolo che può scendere soltanto se mi va sotto 14,5. La 14,5 è chiusura settimanale. Controlliamo oggi perché tirano malissimo le borse in questo momento. Potrebbero succedere anche dei gap down, non lo so, perché ieri ha chiuso alto. Ma attenzione, questi sono titoli che hanno delle robustezze di comportamento, niente male. Se lo guardi dal rimbalzo del Covid, è un grafico carino, ma non è che ha brillato molto dalla serie. È intelligente, ma non si applica perché è rimasto in laterale. Trovo che sia in un momento ostico, non facile da leggere, dove chi ha comprato bene, in area 11,12, a mio parere farebbe, cosa buona, a mantenere la posizione che ha senza incrementarla al momento. I volumi di protezione sono fra 11,5 e 12,55. Questo ci conforta che alcune discese potrebbero anche essere robuste, ma in ogni caso anche assorbite. Io con un occhio guardo i grafici dei principali indici perché c'è proprio una caduta che non mi piace. Stanno scendendo, sì, anche io sto vedendo che stanno facendo tutti i nuovi Eurotech, nuovi minimi, meno 2,88, nuovi minimi anche su praticamente tutto, FBK, quindi Finico Bank, nuovi minimi su The Value in questo momento, nuovi minimi su Tecma Solution, sta girando un po' tutto a mercato. Quindi forse è il caso che andiamo a vedere anche il nostro di mercato come sta andando. E noi siamo a... Beh, noi l'avevamo buttata. Io è da un po' che avverto i nostri telespettatori perché secondo me un giro sui 21.000 tornava a farlo, perché andava a ritesta 21.150, ma non so neanche se è un po' più giù. Occhio perché la direzione è quella, non so se c'è, io non vedo tra l'altro nessun tipo di livello intermedio che possa restare la discesa, cioè vedo proprio il supporto di 21.100 e qualche cosa che mi sembra lì che voglio andare. Come livelli intermedi, guarda, se vuoi ci do un attimo un'occhiata. Eh, dimmi quali sono i tuoi livelli intermedi. 21.565... Andato, siamo a 21.565 adesso. Eh, guarda, io avevo un supporto importante a 21.625. Poi dal punto di vista tecnico mi si apre una voragine di prezzi. Non ti dico dove ho quello sotto perché... Eh no, dimmelo, dimmelo, perché io vedo il 21.150, ma se tu ce n'hai uno più giù, ben venga. Sì, c'ho 20.820. Ah beh, allora tu sei molto più giù di me. Sì, sì, no, ma sono cagolato. Quello che però stamattina dicevamo quando abbiamo affrontato intesa il banco BPM, dove il gufo lapidare ha detto è stato fuori, perché io guardavo con un occhialino anche l'indice Eurostox di settore bancario. L'Eurostox generale, che in questo momento perde l'1,67%, perde sempre meno dell'Eurostox banks, che fa meno 2,4%. Quindi c'è pressione sugli istituti di credo. La delusione della lagarta... Assicurativo, finanziario, ad esempio il peggiore settore in Italia è l'insurance, l'assicurativo, meno 2,5%, il Fuzzitalio Share Insurance. I finanziari, il Fuzzitalio Share Financials perde il 2%, mentre le bank, stavo vedendo che prima le bank stavano perdendo l'1,78%. Quindi insomma tutto il settore quello lì è un po'... E c'è un incremento di volatilità sul Vustox Future del 12%, oggi. Ah, no, io ero rimasto un più 3 di Vustox, ah no, Vustox, io ero VIX. Vustox full 12,20, il contratto future sul Vustox, che tra poco scade, io ce l'ho più 12,25% questo momento, 22,90%. E sta accelerando anche il VIX, anche il VIX, più 7,21%, siamo ritornati a 25 praticamente di VIX. Eh beh, è una giornatina, occhio oggi, mettiamola così. Occhio oggi, bravo, bravo, bravissimo. E non sono neanche partiti gli americani, quindi... Eh ma sta partendo adesso, perché tu lo sai che le sale trading americane aprono tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezzo, eh? Cominciano a baschettare tutti gli ordini. 08, 09, il Nasdaq perde lo 09, un punto percentuale più o meno tutti i mercati stanno perdendo. I derivati degli americani. Va bene, allora andiamo avanti, abbiamo ancora American Airlines, e quindi facciamo anche American Airlines. Scusami, perché c'eravamo un attimo distratti, io non l'ho watch list, ma lo trovo subito. A-A-L. C'è, sì, ecco, A-R. Ok, A-L. Bello, bello. Con le riserve che abbiamo detto prima per l'altro titolo. Bello, cioè ieri è stato molto strong. Il giorno prima ha preso un po' di, insomma, si è fatta un po' male, con molta volatilità, sta aumentando la volatilità. Non so oggi cosa succederà sul mercato americano, non abbiamo neanche i dati di preapertura da poter vedere. Il recupero di American Airlines è stato proprio contraddistinto dalla riscoperta dei settori che avevano sofferto tanto, e un po' dal ritorno, da un'uscita dai settori growth ad alta forza, a quelli value un pochettino più tranquilli. Che dire? Questo è un titolo che ha 14,85, secondo me 14 può meritare un ingressino, non adesso. La media mobile a 200 periodi è stata tagliata, rialzo, con il gap del 24 di novembre, non chiuso, però ancora inclinata negativamente e passa a 13, dove vi sono quantità industriali di volumi distribuiti fra 13,5 e 12,5. Vi direi che questi prezzi sono un po' cari, nel breve, e oggi probabilmente potrebbe essere una giornata poco fortunata. Attenzione, per oggi pomeriggio è supporto di 16,73 e di 15,975, che è tecnicamente individuo da un aggeggino che ho messo sulla mia macchina. Le esistenze le ha già un po' colte, sono quelle dell'altro giorno, di due giorni fa, e poi ci sono i massimi fatti a giugno, che sono stati però oggetto di pesanti vendite che, tra l'altro, avevano dato luogo a della volatilità. Volatilità prevedibilmente in aumento, non c'è assolutamente da negarlo. Da quanto stiamo parlando a prima, altro mezzo punto su Vstox, quindi attenzione perché VIX oggi si farà sentire e chiaramente smontaggi di posizioni a fine della settimana, quando sono giornate così, possono essere decisamente elevati. I volumi sono buoni oggi, ma non sono tantissimi, e quindi attenzione che potrebbe essere un mercato in generale, quindi anche sul titolo di questo genere, potrebbero pagare pegno più i piccoli risparmiatori che i grandi asset manager. Va bene. Allora, caro Giovanni Lapidari, siamo oramai arrivati al termine del nostro approfondimento. Io ti ringrazio, come sempre, per la disponibilità e ti rimando a mercoledì prossimo, tu un consueto giorno di analizzazione. Grazie a voi. Ciao Giovanni. Cordiale a tutti. Arrivederci, buon weekend. Allora, signori, terminiamo qui la fascia trading. Vi lasciamo un mercato che sta accelerando a ribasso, meno 1,58, 21.575 di derivato, volumi ci sono, e quindi è sostenuta questa discesa. Vedremo poi nel corso del pomeriggio, tanto avremo modo poi di seguire anche il mercato americano in preapertura, con Trading Nation dalle 14.20 fino alle 15.10, non abbiamo ospiti e perciò se volete approfittarne per chiederci un po' di titoli in America abbiamo un po' di tempo per farli. Detto questo, ora andiamo in pausa a seguire il nostro approfondimento dedicato al mercato del Lime e dunque vi aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie.